Mi preoccupano gli ascolti. Questa è l'espressione con cui il presidente della RAI, Paolo Garimberti, ha commentato i recenti dati relativi alla prima emittente nazionale. Un calo di spettatori notevole, ma soprattutto inedito, per RAI 1, avvezza picchi ben più alti negli indici di gradimento. Un fenomeno che ha sollevato parecchie polemiche, ma anche spinose questioni riguardanti l'assegnazione di poltrone all'interno della rete nazionale. Tuttavia, sulle questioni politiche, Garimberti ha evitato qualsiasi commento a riguardo, focalizzando invece l'attenzione sulla necessità di risollevare i dati relativi all'ascolto e astenendosi dal proporre fantasiose ricette salva-sher. Ad aggravare la crisi in corso, anche la complessa posizione del direttore del Tg1, Augusto Minzolini, sul quale la Guardia di Finanza sta ancora effettuando controlli e verifiche. Una crisi improvvisa che emerge in tutta la sua urgenza e che, a livello generale, sembra compromettere in parte l'immagine e il buon nome dei quali RAI era divenuta sinonimo in questi anni.